Meglio di lì eh! Lì, 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 lì. Lì, 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 lì. Lì, 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 lì. Lì, 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 lì. Lì, lì, lì. Lì, lì, lì. 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 Lì, lì, lì. Lì, lì, lì. Lì, lì, lì. Lì, 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 lì. Lì, lì, lì. Lì, 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 lì. Lì, 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 lì. Lì, lì, lì. Lì, lì, lì. Lì, lì. Lì, lì. Lì, lì. Questo è il vecchio alpe di Bellerona, adesso c'è il sentiero che va su un po' azzilzacqua, pavola dentro il traverso, entro la valle e riesce fuori la bocchetta di Rozz, poi vediamo come si è messi fisicamente.